oggi ufficialmente riprendiamo a pubblicare video amici del mondo ben trovati come avete potuto vedere sono stati pubblicati dei video imbarazzanti che non siamo stati noi a pubblicare teniamo a precisare ci scusiamo su questo se avete trovato sulla nostra pagina dei video molto imbarazzanti non siamo stati noi a pubblicarli e vogliamo ringraziare tutto il team metasupport, gli operatori, tecnici che ci hanno aiutato, sopportato ma anche sopportato però specificiamo anche non solo gli operatori diciamo ci sono state anche altre persone che ci hanno aiutato e sostenuto in questo lungo percorso esatto perché non è stato molto facile è stato veramente facile recuperare la nostra pagina il giorno 4 aprile è stata gerata e ora soltanto ora l'abbiamo recuperata diciamo dopo all'incirca quasi due mesi di attesa però noi intanto non ci siamo comunque fermati abbiamo continuato a fare i video che infatti siamo contenti di farveli vedere perché comunque ci siete mancati non nonostante la nostra testa era impegnata anche in altre cose o meglio nel cercare di risolvere il problema ci siete mancati perché mancava il vostro affetto e i vostri commenti diciamo ci siete mancati noi abbiamo continuato a pubblicare i video sugli altri social instagram tiktok e youtube andateci a seguire anche lì e tutta questa disavventura ci ha insegnato che non bisogna mai mollare nella vita dovete sempre crederci nei vostri sogni e non mollare mai perseveranza amici perseveranza guardatevi sempre avanti ma anche indietro ci siete mancati ci mancato il vostro affetto esatto vi mandiamo un forte abbraccio da oggi ufficialmente riprendiamo a pubblicare i video state connessi seguiteci esatto al prossimo video ciao ciao